Buonasera a Massimo Cofani. Buonasera. Massimo sei qui con noi e c'è Lorenzo Guzzi. Ciao Lorenzo. Buonasera. Ciao Lorenzo. Massimo Cofani è una guardia e nel 2002 entra nel corpo delle guardie giurate. Quanti anni hai oggi? Sei giovane. 39. 39. Quindi nel 2002 avevi 28 anni e il tuo sogno è fare la guardia giurata. Sì, sempre è piaciuta la divisa, però volevo fare il carabiniero a 10-7 anni come volontario, però non l'ho potuto fare per questa malattia che ho. Beh così va bene, giusto, poi lo tagliamo, però così è perfetto. Tu però sei affetto da una patologia da sempre, tu nasci con questa patologia, di cosa sei affetto? La distrofia di Becker. Da cosa sei affetto? La distrofia muscolare di Becker. Che, correggimi se sbaglio, è la forma leggera della sclerosi laterale. No, 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 è la distrofia muscolare. Ho capito. Cioè quella distruttiva che è quella di Duchenne. Ah, bravissimo, tu c'hai il bambino, ricordo. Mentre questa qui di Becker... È quella più leggera, diciamo. Sto sempre sotto controllo a un centro che è Unione Italiana lotta alla distrofia muscolare. Che sono bravissime persone e mi seguono ogni anno, ogni due anni. Ovviamente c'è un ciclo terapeutico, farmaceo e farmacologico. No, no, non prendo farmaci. Beh, questa è una bella cosa, sì. E cosa succede? Tu vieni assunto e loro sanno di questa tua... Sì, all'inizio non mi vogliono prendere. Poi ho fatto la cosa... Alla Camera del Lavoro e poi mi hanno preso come invalido civile. Però ho lavorato e ho fatto, tranne che invalido civile, praticamente ho fatto il lavoro come una persona normale. Anche perché, Lorenzo, aiutami, tu sei anche sindacalista. Ricordiamo di quale sindacato? L'UNAL, sindacato UNAL. L'UNAL. Se assumi una guardia giurata come invalido civile lo devi mettere in ufficio. Eh sì, sì. Invece sembra di capire che Massimo Copanetti... Hanno fatto svolgere mansioni normali di guardia giurata. L'antonamento... Sì, sì. Doppio turno, eccetera. Servizia a banca, antirapina, tutte queste cose qua. Hai fatto anche trasporto valori? No, no, trasporto valori no, perché non potevo, perché non ci faceva salire sul furgone. Cioè, fermate in acqua. Da venerdì scorso e soffrono le guardie giurate, è un mondo altro che è capovolto. Di più di un mondo. Amplificato, capovolto e distrutto. Tu non ce la fai a salire sul furgone. Questo impedimento è dovuto alla patologia della quale sei affetto. Sì, esatto. Dalla quale sei affetto. Però ho ottenuto il posto come categoria protetta, come guardia giurata. Vabbè, si può ottenere quel posto, però stai in ufficio, stai al centralino, magari smisti le telefonate, fai... E la cosa assurda è che per più istituti ha lavorato. Dicceli un po', se si può, eh? Se si può. Dimmi. Massimo, direi. Allora, il primo è Europol Guardie, che è andato fallito, poi dopo sono stato in mobilità e sono andato un anno alla Cipro. Poi dopo la Cipro mi hanno proposto, perché era contratta un anno a termine, mi hanno proposto di passare alla Control Security. Sono passato lì, dopodiché, dopo tre anni, sono stato in cassa integrazione per quasi sei mesi. Poi mi hanno richiamato e ho lavorato fino a ottobre 2012, finché non mi è passata questa altra società che è il cambio d'appalto, che è la CLSTV, che poi, stando in malattia, mi hanno licenziato. Ah, però ripeto, Massimo Gofani ha fatto tutto, ha svolto tutte le mansioni all'interno della categoria professionale, che è quella delle Guardie Giurate, tranne il trasporto valori, perché lui è impedito fisicamente a salire sul furgone. Perché praticamente la malattia che c'è ha colpito più i muscoli delle gambe che delle braccia, le braccia sono un po' meno. Però permetterai che chi ascolta, la tua passione ovviamente è l'aspetto dominante nella suggestione del racconto, però c'è anche un minimo di legittimo ragionamento da parte di chi ascolta. Massimo, da subito, devi fare un lavoro diverso all'interno del corpo delle Guardie Giurate, perché se non può addirittura salire sul furgone, come fa a correre dietro a un malvivente? Io capisco la tua grande passione e andava sicuramente corrisposta, con un ruolo e una mansione diversa rispetto da quella più operativa, dal punto di vista proprio operativo. Vieni licenziato, sei stato licenziato? Sì, il primo giugno 2012. Le motivazioni? Perché per la malattia e poi perché mi erano scaduti i titoli del porto delle armi, però sempre per colpa loro, perché ovviamente per obbligo l'istituto deve pagare il poligono, per obbligo l'istituto deve pagare il poligono, invece loro non l'hanno pagato e ovviamente dovevo pagare io e non ho potuto pagare perché non avevo i soldi, perché non mi hanno pagato la malattia. Quanto costa iscrivere il poligono? 90 euro, che è quello doveva pagare l'istituto. Solitamente fanno una convenzione. Beh c'è una convenzione, però non avevano i soldi e hanno sospeso questa convenzione. Da un punto di vista sindacale, quindi del diritto al lavoro, fermine questo valore assolutamente compromesso, se non del tutto deteriorato in questo paese. Pensare che il primo punto della Costituzione ne recita l'Italia, è un paese, una repubblica fondata sul lavoro. Dove vi siete appellati? Dove vi state appellando? Dove vi potete appellare? E comunque già dall'inizio lui ha ottenuto questo posto come categoria protetta e ha lavorato più e più istituti, i quali non gli hanno mai contestato il suo stato fisico, anche attuale, e quindi ci siamo appellati a quello e comunque sia ha lavorato più e più istituti. L'azienda che l'ha licenziato ha fatto istruzionismo dall'inizio, l'abbiamo accompagnato tutto il percorso, non ci hanno mai risposto, dopo vari solleciti, anche dagli enti preposti, eccetera, non hanno accolto nessuna delle nostre segnalazioni. È richiesta, insomma, di riprendere Massimo al lavoro. Sollecitazioni alle quali non hanno risposto, mi sembra di capire. Purtroppo, purtroppo, purtroppo. Cosa possiamo fare per voi, oltre ad aver raccontato la storia? Perché Massimo, di cosa vivi oggi, Massimo? Posso chiederlo, eh? Sì, sì. Di cosa vivi? Sì, insomma, per fortuna che mia moglie lavora, però adesso prendo una pensione di 300 euro, perché è quella dell'invalidità, però non ci faccio niente perché sono proprio in mezzo ai guai, perché avevo delle cose da pagare e non riesco a pagarle, e mi te ne fanno in continuazione quelli di recupero crediti, che devo pagare per forza, e io non ce l'ho, non so come fa. L'azienda, diciamo che l'ha licenziato, non gli ha permesso neanche di rientrare in azienda per... Sì, quello anche, non mi ha dato l'opportunità di essere rintegrato, e non mi hanno pagato praticamente assolutamente niente, né ferie, né TFR, né quattordicesimo... Quindi neanche la liquidazione è presa? E gli aspettava una buona liquidazione? Certamente. Dopo dieci anni, undici anni di servizio? No, no, quello era di meno, era sei mesi che stava a strisciare. Ah, perché è vero, hai cambiato. Sì, cambiato. Che dire, ormai sono questi, il tenore delle storie è questo, il trend è questo, si deve reagire, si deve reagire, si deve dare risposte concrete, ma chi è in grado di dare risposte... Mi hanno mandato email anche a tutte le istituzioni, ma non ha risposto nessuno. Il nostro Orlando, se mandavi a Orlando ti rispondeva sicuramente e umanamente conoscendolo, le istituzioni ovviamente non ti hanno risposto. Lorenzo, cosa vogliamo dire? Beh, diciamo sicuramente all'azienda, all'istituto di vigilanza CLSTV, di essere un attivino più morbido nei riguardi di Massimo, il quale mi ha raccontato che addirittura si è regata un'azienda e non gli avete neanche permesso di entrare nell'istituto. Sì, anche quello. Mi hanno dato l'opportunità di prendere le buste paga, ho dovuto chiamare i carabinieri, che il maresciallo ha telefonato a loro e poi mi hanno fatto entrare. No, però aspetti, queste sono storie veramente... Oltre il danno anche la breffa. Cioè, tra quelli che fanno il doppio lavoro, chi c'ha un giorno, un'ora di preparazione, guardi e giurata, è un mondo in girone, è il girone infernale per eccellenza. Tu dovevi andare a ritirare le buste paga, la tua busta paga all'interno dell'azienda per la quale hai lavorato e ti hanno impedito di entrare all'accesso? Sì, sono tutto andato dai carabinieri e il maresciallo ha telefonato perché altrimenti devo fare un'altra querela. Voglio dire, è difficile crederle queste storie, ma sono storie ovviamente vere, soprattutto per semplificare il tutto a me e a chi gli amici e le amiche che sono in ascolto. In questo caso, perché ti hanno impedito l'accesso? Avranno dovuto motivare? Qual era il motivo per il quale... Non me l'hanno saputo di... mi aveva detto che non c'era nessuno e invece non era vero. Mi aveva detto che non c'erano i responsabili e invece dopo mi hanno fatto entrare e ho preso i buste paga. Quest'azienda ovviamente noi la solleciteremo. Il problema è che questa azienda è una piccola società, vero? Sì. Quante persone... Una sessantina, penso. Una sessantina di persone. Sempre qui la storia degli appalti. Esatto. Cosa facevate soprattutto? In che... Avevamo i depositi Cotral. Io facevo veramente stato un deposito Cotral. Facevo dalle 21 alle 4. E devo controllare il suo deposito che non entrava nessuno. Cioè non è vero quello che stai dicendo? Sì, sì. Oddio, no, questa... Facevo da 21 alle 4 di notte. Cioè, però, perdonami, tu non puoi fare trasporto valori perché per questo problema di questa distrofia non puoi salire sul furgone. Ma se c'è dei depositi Cotral dove stanno gli autobus, quindi non potevi neanche salire su un autobus eventualmente... A fatica, diciamo. E ti hanno messo lì sapendo questo. Perché uno magari sente dei rumori e tutto quanto, magari afforzano una porta, entrano per rubarsi qualcosa all'interno, c'è un sedile, non lo so, o si nascondono, o vanno a dormirci dentro. Quindi tu hai difficoltà proprio, oggettive difficoltà dovute alla malattia per salire su e ti mettono dentro il deposito Cotral. Perché per il cambio appalto c'era solo quel lavoro lì. Quanto guadagnavi al mese? Mille, 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 mille cento, mille e due. Per arrivare... Con quell'attività di istituti, con questo di meno perché mancano sempre l'ore. Una volta 20 ore, una volta 30, una volta... Meno significa quanto rispetto a mille e duecento euro che hai già visto il rischio? Mille euro. Diciamo mille euro. Sette giorni, sei giorni a settimana? Quante ore? Sì, sette giorni a settimana. E lavoravi quanto? E uno di riposo. Dalle 21 alle 4. Dalle 21 alle 4. Del mattino, giusto? Meno che il sabato e facevo 21,5. 21,5. Mentre facevo un'ora di straordinario. Hai figli? Sì, una bambina di 5 anni. Come si chiama? Alessia. Un bacio speciale ad Alessia. Allora, c'è la pausa pubblicitaria, poi torniamo ancora con i nostri amici e poi, essendo oggi lunedì, avremo ospite il nostro De Biasa. A dopo. Radio Roma Capitale. 32 minuti dopo le 19. insomma, purtroppo una vigilia, un pre-derby molto, 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 molto violento e questo dispiace davvero. Abbiamo in diretta qui due amici, Lorenzo Guzzo, Guzzi, Guzzi, Guzzi. Come il moto Guzzi. Esatto. Come il moto Guzzi. Niente a che fare con... Purtroppo no. Purtroppo, sapevo che avresti detto purtroppo no. E Massimo Cofani, Lorenzo Guzzi, ovviamente è un sindacalista e mi aveva già detto venerdì quando era stato ospite con le guardie giurate che teneva molto affinché si potesse raccontare la tua storia. Mi sembrava giusto, ovviamente, e una cosa fatta velocissimamente oggi, già sei qui a riprendere la settimana e a raccontarci la tua storia. Massimo Cofani è... qui purtroppo sempre notizie che arrivano dallo stadio nell'ultimo ore. Massimo Cofani nel 2002 entra in un corpo di guardia giurata. Europol. Europol, in questo istituto di vigilanza, diventa guardia giurata. Se non entri in un corpo sembra quasi che ti impossessi di un corpo. Come categoria protetta. Come categoria protetta perché affetto dalla... Di distrofia di Becker. Di Becker. È la forma, diciamo, più leggera... Quella di Duchenne che è quella di distruttivo. Quella distruttivo. Avete sentito la sua storia? Io non so che altro aggiungere rispetto a queste storie perché noi cercheremo di sollecitare e invitare l'istituto ultimo per il quale hai lavorato. Centro Logistico, Sicurezza e Trasporto Valori. No, ma è incredibile addirittura che il fatto che ti impediscano di andare a ritirare la tua busta paga. È tutto... Veramente da venerdì a oggi grazie a Lorenzo e a te, ai tuoi colleghi mi state raccontando un mondo altro che capovolto, altro che al contrario. Se non ci fossero le persone come Lorenzo Guzzi dell'UNAL non si saprebbe a chi rivolgersi perché non funziona più niente. Le istituzioni fai querele, denunce non servono a niente perché nessuno fa niente come se non esistesse la legge. Grazie Massimo. Avete casa in affitto con tua moglie? No, infatti ho casa comunale però ha parecchie spese. E te hai in mano tutti abbiamo parecchie spese. Una bambina di 5 anni poi. Che lavoro fa tua moglie? Lavorava in un centro anziani. Un centro anziani. Insomma, anche lì credo che lo stipendio non sia... Sono 9.000 euro. 1.000 euro. 1.000 euro. Massimo, noi ti auguriamo... E' inutile dice che appello a chi può ovviamente aiutare Massimo ma oggi è davvero tutto molto più difficile. Resta da parte nostra l'impegno di Radio Roma Capitale soprattutto di tenere viva la voce dei cittadini e di dare sempre più forza ovviamente a questa istanza. Lorenzo, prima di salutarci cosa volevi dire? Se vuoi aggiungere qualcosa? Se vuoi dare dei riferimenti al tuo sindacato? Non lo so. Sì, noi siamo pronti a cogliere ogni segnalazione come sindacato il sindacato UNAL. Voi siete un sindacato solo per le guardie giurate? No, seguiamo tutte le categorie. Tutte le categorie. Unione nazionale autonomi del lavoro. Siamo presenti qua a Roma e a livello nazionale. Segnalate, denunciate e siamo pronti ad ascoltarvi a cogliere ogni denuncia. Certo, perché sai un caso è un caso dieci casi, cento casi, mille casi poi fanno un'onda d'urto che può essere anche determinante. Massimo Cofani, grazie. Hai portato tutte queste cose. Io non vorrei... Sì, no, no, abbiamo detto tutto. Abbiamo detto no perché mi dispiaceva andarsi e salutarti. Invece siamo stati esaustivi abbiamo riprodotto tutto quello che ti hai riscritto. Grazie a Lorenzo Cuzzi e dopo.